Con più di 12 anni di sviluppo, Mauro Service porta sul mercato il primo sistema di riciclaggio del calcestruzzo su misura, progettato per coprire le esigenze particolari di qualsiasi produttore di calcestruzzo nel mondo. Questo potente sistema di riciclaggio combina due macchine affidabili e completamente automatizzate, la cui funzione principale è quella di recuperare tutti gli inerti e le acque di scarico derivanti dal processo di lavaggio dei camion. Il VibroCleaner è un'unità automatizzata che separa i materiali inerti dalle acque reflue contenute nei ritorni di calcestruzzo fresco. È dotato di un agitatore progettato e realizzato dagli esperti ingegneri di Mauro Service, per garantire che la vasca non richieda manutenzione o pulizia. Inoltre, il VibroCleaner include il nuovo meccanismo automatico di autopulizia brevettato da Mauro Service, che si avvia immediatamente dopo la fine del ciclo di lavaggio e rimuove qualsiasi particella residua. D'altra parte, il Water Wind Filter Press è un'unità automatizzata che separa i solidi sospesi presenti nelle acque reflue, formando panetti secchi e compatti con umidità massima pari al 25%. Inoltre, il Water Wind Filter Press rende possibile il riutilizzo dell'acqua filtrata nella produzione di nuovo calcestruzzo, senza alterare la composizione della ricetta. Grazie alla versatilità delle configurazioni mobili e fisse offerte da Mauro Service, questo sistema di riciclaggio è in grado di assistere sia i piccoli produttori che le grandi aziende, permettendo la gestione quotidiana di flotte che vanno da 1 a 50 auto betoniere. Questi sono alcuni dei vantaggi di questo affidabile sistema. Ritorno sull'investimento da 2 a 5 anni Il costo di manutenzione più basso del mercato Recupero del 100% degli aggregati e dell'acqua durante il processo Zero deposito di rifiuti in discarica Zero uso di additivi chimici Possibilità di riutilizzare l'acqua filtrata e gli aggregati recuperati Funzionamento completamente automatizzato Assistenza remota 24-7 La soluzione fornita da Mauro Service è l'unica al mondo che pone fine a pratiche di gestione dei rifiuti inefficienti e inquinanti e contribuisce con successo all'economia circolare nel settore del calcestruzzo